Buongiorno, sono Cristian, maestro di sci e allenatore della scuola di sci di Colfosco. Iniziamo a introdurre la famosa sciata sportiva. Dalla diagonale diminuiamo la presa di spigolo, andiamo in distensione fino sulla massima pendenza, dopodiché, superata la massima pendenza, andiamo in piegamento-angolazione. Amanti dello sci, mi raccomando la sicurezza, cosa molto importante. Sciare in sicurezza vuol dire controllare la velocità, avere rispetto degli altri, usare il casco e soprattutto usare la testa. Un saluto da Colfosco, da Cristian, amici dei Paluani Life, vi aspetto, ciao! Grazie a tutti!